No Ah Oh Oh Fortissime Fortissime Allora il cecchino via Ragazzi Io ho parole in tutte le salse Ma proprio non riesco a far male andare giusto il cecchino Le wospa gimbal La wospa gimbal qual è? È questa Non faccio a farla gimbal però Non è questa Sono queste no? Sono questa gimbal o quell'altre. Eh, regà? Sul pistole? Ah, la Stinger, questa? E' così forte, so, queste. Le veramente sono forti? Sono così forti? No, ma com'è stato arrestato il Basiliano? Come hanno arrestato il Basiliano? No, che ha fatto? Che ha fatto il Brasileo? Il Brasileo? Sto edificio c'è un botto di luto. Bello. Ma c'è Sara. Le macchine impossibili da rompere. Solo io. Uno che mi buscia. Due, due, due. Preso. Mamma mia, come l'ho preso, regà. Mamma mia, come l'ho preso. Godo. Sono morto. Aspetta. Via, via. Ragazzi, ma è fortissimo. Carmen, ma fai buggi. Buongiorno. Ho fatto qualche rincoglionito. Che vuole ficcarmi giù con la macchina. Adesso, avriamo. Scendo. Non c'è Sara. Mamma mia. Peccato. Lascia. Ragazzi, è andata quella. Ma dove va la gente? Oh, non mi si alza. Vedi che non... Sono bug di merda che non fixeranno mai, oh. Mamma mia, bro. Fai veramente schifo, Dario. No, vai che schifo. Io, sono forte. Io non ho più forte. Beh. Via. Ma tanto lo shot. Anche se fosse... Bella scusa. Non mi si alza. Spero che pacino. Beh. Sarebbe bella questa, eh. Non mi si alza. Speriamo che pacino. Via. Cazzo, sono morto. Dov'è? Oh. Oh. Un altro che mi bussha da questa parte. Ok a sinistra. Se fosse stato one shot. Ma peccato che non lo è. Speriamo che il car sarà almeno sui 100 metri, non sui 75. 5, 4, 3, 2, 1. Non ti vedo più. Non ti vedo più. Non ti vedo più. Po, 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 po. è bello essere in tua compagnia fortissime fortissime mamma mia 5 4 perché c'è perché qui non l'ho ma shottato da sta distanza ragazzi quanti metri so cazzo sono 30 metri ma devi morire bro c'è scritto 75 metri perché non muore bro perché perché lo spado cioè ti vedo solo la testa lo spado in faccia bro sto tizio morto sergi su saru pittato mamma mia vada dietro satana ti prego bloccami tu anche questa non è la testa una nana 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 na No, 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 no. Siamo alla tattica del piano piano. Robbi particolari. Guarda qua, tutte scritte. Ma io, cazzo, non ci vedo a chi spara. Come faccio a vedere? Non posso fai dare da lontano, eh? Cioè, ricordiamoci, cioè, da vicino... Grazie mille amico, mi occupa di sempre sorridere. Un abbraccio speciale, strizzo chiapet minore di tre. Ah. La morte. Brividi. Ho dalla sua centrale. Oh no, ho delle armi che non mi aiutano. Ma ho la speranza, la speranza di... Eh, non posso, Vinci. Mi hanno salvato. No, lo scudo no. No, no. Lo scudilo no. Va bene, va bene, va bene. Sai che c'è, scudiero? Cazzo di merda. Andiamo via fastidiosi, aspetta. Ma mi ha shottato, bro. Cazzo in abbraccio, nuova zona di culo. Cazzo c'è, c'è un 400 stu, no. Schifo, Tomo, fai proprio schifo. Qua non c'ho la R, quindi c'è 10 kg. L'ho pure graccato. L'ho pure graccato. Ho pure sentito i... Mamma mia, peccato, cazzo. Era una partita della Madonna.